La ragazza è molto provata, ha subito questo che è uno shock, indubbiamente è uno shock e una disgrazia prima di tutto per la famiglia delle vittime, però anche la ragazza è indubbiamente chiusa nel suo dolore, non si riesce a instaurare un dialogo perché capisce soltanto la gravità di quello che è successo e ha il peso evidentemente di queste tre vite. Lei riesce a spiegarsi come si è successo, come si è potuto accadere? No, lei ha rimosso, non si ricorda assolutamente nulla, non ha il ricordo di niente di quello che si è verificato e nel momento in cui lei si parla di questo l'unica reazione che ha è mettersi a piangere. Per parlare con lei ho dovuto usufruire di una interprete e conseguenzialmente si è cercato sostanzialmente anche di spiegarle, anche se in questo momento probabilmente il dolore è talmente forte e non capisce neanche, evidentemente non vuole probabilmente neanche capire nulla riguardo al processo, ai meccanismi, a tutte queste situazioni rispetto alle quali lei continua a dire sono in un baratro, è come se non riuscisse a vedere evidentemente un futuro o qualsiasi altra cosa. Da parte nostra chiederemo la rimessione in libertà, il fatto che non venga applicata una misura, il fatto che siano venute meno le aggravanti e che conseguenzialmente non ci troviamo in una situazione in cui una persona si sia messa consapevolmente alla guida in stato di ebrezza oppure dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti oppure anche solo per gioco, filmando o qualsiasi altra cosa, io penso che sia fondamentale e determinante per comprendere la situazione. Poi è chiaro che evidentemente anche gli accertamenti che verranno effettuati da parte delle forze dell'ordine, in ordine alla dinamica, a come si è verificata, evidentemente hanno una rilevanza.